Ora ci sarebbe l'intervento del professor Orlandini sugli aspetti idraulici dell'alluvione di Modena. È andato a recuperare i rinforzi, ringrazio i presenti che ancora hanno resistito magari dei morsi della fame. Intanto che arrivano i rinforzi con i suoi studenti, che saranno sicuramente interessati a questi tempi, cerco di non annoiarvi troppo, vi parlerò un po' io degli aspetti meteorologici dal punto di vista dell'osservatorio e da altri punti di vista dell'alluvione di Modena. Cerco di stare nei tempi televisivi, quindi di sintetizzare 20 diapositive in 3 minuti, come si fa in televisione, o anche un pochino di più, insomma. È l'estratto di un seminario che avevo fatto qui nel Dipartimento, di una conferenza che avevamo fatto qua, qui in Università, subito dopo l'alluvione, anzi sono iniziata lì l'attenzione. Poi ci fu un altro evento con tutto il mondo della meteorologia armatoriale a Medolla, in cui parliamo dell'alluvione di Modena insieme appunto a Pierluigi Randi, all'Accademia delle Scienze, il seminario che vi dicevo, e oggi lo ripropongo qua con aggiornamenti anche in chiave delle novità. L'alluvione di Modena, aspetti meteoclimatici. Facciamo un passo indietro nel tempo. L'osservatorio geofisico che dal 2012 afferisce da sotto la responsabilità del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, e che si trova nel Torione di Levante del Palazzo Ducale, oggi ho l'onore di portare il dottor Rubiera nella piazza, purtroppo avremo difficoltà a salire su anche per i gradini, perché appunto uno dei primi problemi che c'è di accessibilità è che ci sono 300 scalini da salire a piedi, lo facevano nell'Ottocento, adesso diventa un po' più difficoltoso anche alla mia età stessa, quindi non lo nego, però si fa con grande passione e dedizione. Abbiamo tutta una serie di strumenti storici, non possediamo, come era interessato il dottor Rubiera, il meteorografo di Padre Secchi, che è uno strumento importante, che fra due anni ci sarà anche un'importante celebrazione, che auspica anche in Italia che ci sia un convegno, probabilmente lo avevamo, cercherò notizie storiche, ma non lo possediamo più, ma abbiamo tutte le note scritte di ogni giorno e in passato erano note anche molto dettagliate di quello che veniva nelle osservazioni del tempo. Proprio oggi e domani, 28-29 settembre 1833, il 28 e il 29 settembre 1833, ci fu un forte nubifragio in città, non fu un'alluvione, da quello che posso leggere, da quello che si capisce, dei fiumi, ma fu un'alluvione urbana, fu un'innovazione urbana della città di Modena. E questo è quello che è scritto, in parole più o meno testuali, da Giuseppe Bianchi, che era il direttore e stato il primo fondatore, insieme a Francesco IV d'Este, dell'Osservatorio di Modena, proprio lui dall'assù andava a guardare tutti i giorni quello che succedeva, scriveva, dopo una forte e continua pioggia di quattro ore, alle 18 e 30, alle 6 e 30 della tarde, il cielo parve rischiarirsi, ci fu una schiarita, un poco del sole, ma ben presto si intese un confuso mormorio di pochi tuoni in lontananza, in poco tempo, muccia nublada e il tuono, il raios, e in tutto l'orizzonte brillavano luminosi baleni, raios, muccia raios, molti fulmini. Poscia, è scritto in modo un po' poetico, poscia il cielo si rese di colore cinerino biancastro, le nubi si portavano ad altezza considerevole, e cominciò una dirotta pioggia che continuò fino alle 10 del giorno 30, per cui i canali e gli scoli della città dei dintorni di Modena e dentro la città stessa strariparono in modo straordinario. La città guardata dall'alto dell'osservatorio sembrava una seconda Venezia. Modena apparesse come Venizia, con toda inondada. Tutte le campagne del circondario erano ricoperte d'acqua, le porte della città erano sediate dall'inondazione che cominciava a entrare nella città. Gli scoli all'interno, per ogni dove rigurgitanti, accentuavano il riunirsi delle acque assedianti per rendere navigabili le contrade. Se poteva andare con il botte in Modena. Pensate se si ripetesse un nubifragio di questo tipo ai giorni d'oggi, magari in modo anche più accentuato dell'aumento delle temperature. Nel museo e nell'archivio dell'osservatorio abbiamo anche delle mappe cui personalmente, forse anche Pierluigi, forse anche Carlo Cacciamani, sono anche più affezionato, mi piacciono di più delle reanalisi moderne. Questa è la mappa meteorologica dell'alluvione di Firenze del 1966 che inundò anche a Modena, c'è l'alluvione anche a Modena in provincia di Modena, del Secchia e del Panaro, ed è la classica situazione alluvionale, un po' simile a quella che c'è stata nel gennaio 2014, con alcune differenze però sostanziali. La prima è che era in novembre e non era in gennaio. La seconda è che in gennaio allora probabilmente sarebbe nevicato. La terza è che in queste le piogge furono intense in tutto il territorio, anche in pianura, furono molto abbondanti, 70 mm in Modena città. Per fortuna, nell'alluvione del 2014, le piogge a Modena città sono state sì intense, ma di 14-15 mm, poi lo vedremo dopo, con alcuni temporali, ma non sono stati 70 come nel 1966. Questa è una differenza fondamentale. Come vedremo dopo, le piogge in montagna sono state simili a questo episodio, un po' inferiori in realtà, in pianura notevolmente inferiori. Bassa pressione vicino alla Sardegna, cerca di Sardegna, alta pressione nell'est d'Europa, alta pressione di blocco. Classica situazione dell'alluvioni, che spesso si presentava anche in settembre, 1972 e 1973. L'acqua arrivò fin quasi a casa mia, quasi all'albergo, all'hotel dove sta Giuseppe Robiera. Anche a settembre, un periodo tipico delle alluvioni, e questo diede impulso, in due o tre anni ce ne furono molte, c'era già una certa urbanizzazione, a una sensibilità sulla protezione delle alluvioni. E questa immagine la conosce bene il professor Orlandini, ne abbiamo visto spesso, la gente scendeva in piazza. Scendeva in piazza, non a chiedere autostrade, non lo dico per spirito polemico, anche se io ho una mia opinione sulle nuove autostrade, ma per chiedere soldi e finanziamenti per le difese da queste grandi alluvioni. E chiedevano, scendevano in piazza, e questi movimenti, cosa importante, erano guidati dai sindaci, dall'Alcadia della città. I sindaci, in accordo con i cittadini, scendevano in piazza, furono costruite opere idrauliche, dopo se ne parlerà, ci hanno difeso per molti anni, il fiume ci ha lanciato molti segnali, ne cito alcuni, ma ci sono stati molti altri, in giugno, che non è molto usuale, non è molto frequente, del 1994, dicembre 92, dicembre capita, dicembre 2005, novembre 99, durante il progetto MAP, e altri ancora, la Bertola, il barrio di Modena, un quartiere di Modena, insorge, il Pueblo stava in dimostrazione, per questo problema di inondazione, ma nel frattempo, siamo un po' dimenticati, ma il clima è cambiato, e lo vediamo in modo un po' più dettagliato, queste sono le temperature medie, del mese di gennaio, registrate a Modena, presso l'osservatorio, e se vedete, c'è una grande variabilità, fra un anno e l'altro, ma inverni e gennaio, così freddi, come c'erano fino agli anni 70, si è ripetuto una volta, nell'85, non freddo come quelli del passato, negli ultimi anni, anche in quelli che sono stati, anni, do il benvenuto agli studenti, sono gli studenti di ingegneria idraulica, il corso del professor Landini, se vuoi dirlo che corso è, dopo passo la parola a te, negli ultimi anni, soprattutto, non solo ci sono stati dei record di temperatura, il gennaio più caldo, è stato nel 2007, si è ripetuto in parte nel 2014, e anche nel 2015, ma punto importante, il mese di gennaio del 2014, caratterizzato dall'alluvione, ha avuto una temperatura media, che è stata addirittura superiore, a quella del novembre 1966, il genero dell'anno della inondazione, fu mas caliente, del mese di novembre, che è stato in autunno, del 1966, è un cambio di clima, cioè quello che avveniva in autunno, sta avvenendo in inverno, e il risultato, sono state piogge, paragonabili a quello di un uragano, non è stato un uragano, ma effettivamente, proprio dai dati Arpa Emilia Romagna, la stazione che ha avuto più raccolta di pioggia, queste sono in 5-6 giorni, è stata l'Agdei, in provincia di Parma, le piogge sono state paragonabili, come quelle di entità, a quelle del passaggio, l'uragano Sandy a Jamaica, in 5 dias, c'è mass di 600 mm di luvia, l'uragano Sandy in Jamaica, era di categoria 1, credo, quando passò, in Cuba, era di categoria 3. Ha parlato già un po', Cacciamani, della situazione sinottica, tipica, un altro elemento, però fondamentale, questo è perché tanta pioggia, è stato che insieme a questa situazione, non sappiamo se c'era anche nel 66, magari c'era, ma non credo così accentuata, c'erano in consueta attività temporalesca, un sistema convettivo a mesoscala, simile a quello di Piacenza, per fortuna meno intenso, simile a quelle che causano i tornadi, ma in gennaio, e questo non è frequente, naturalmente poi ha concorso l'orografia, ma ha concorso, ritengo la quantità di pioggia, il fatto che questo evento sia avvenuto in gennaio, il fatto che, appunto, come diceva Cacciamani, non cadde un fiocco di neve, l'anno prima, a gennaio-febbraio, i fiumi, i torrenti, i montagni erano così, a gennaio del 2014, erano così. Questo fa pensare che in un clima normale, almeno in gennaio, così tanta pioggia non si sarebbe verificata. Però, in questo clima normale, che è un nuovo clima normale, abbiamo proprio una nuova normalità, una nuova non stazionarietà, questi fenomeni, cioè, se si ripetono il dubbio, il problema che c'è da porsi, se si ripete questo tipo di situazione, non in gennaio, ma in novembre, e a novembre, invece di essere nell'ambito del clima di novembre, diventa novembre caldo come settembre, che cosa può succedere? Quindi se possono capitare, anche ancora più intensi, o può essere anche una domanda per gli altri relatori e cacciamani sugli aspetti meteo-orlandini, sugli aspetti idraulici, se un evento come quello di Piacenza si ripete nel bacino del Secchia, in novembre, magari dopo una forte nevicata, quali possono essere le conseguenze? Molta pioggia, anche a Modena città, è stato il gennaio più piovoso, se togliamo la parte nevosa, quindi è stato un mese straordinario come pioggia, ma ho abolito il termine eccezionale, e io, oltre che guardare le piene, mi sono preso lo sfizio di fare un giochino, un po' empirico per ora, ma che mi piacerebbe anche approfondire, magari con la collaborazione di Arpa, e sono andato a vedere delle piene degli ultimi anni, quante sono state piene normali, cioè quante sono in novembre o in settembre, o al massimo in dicembre, ma dovute solo a pioggia, e quante sono state invece o piene invernali, oppure piene causate da pioggia, confusione della neve, e vediamo una cosa molto interessante, ripeto, ancora empirica per ora, sono state molte piene, sono state oltre una ventina negli ultimi dieci anni, però, mentre in passato erano piene autunnali, negli ultimi anni, 2009 per esempio, ma soprattutto 2013-2014, 7-8, o anche di più, perché quello mi ero affermato di fare da febbraio, poi ce ne sono state delle altre, sono stati eventi di piena, in pieno inverno, e con pioggia, in alcuni casi, che ha fatto anche fondere la neve. Quindi è un problema che c'era, ma che diventa emergente. Questa era la copertina del Business News Week, in occasione dell'uragano Sandy, che l'avevo modificata con un'immagine della nostra alluvione. In realtà, gli eventi estremi, i cambiamenti climatici, sono una cosa complessa, ci sono limitate evidenze, anche se ce ne è apportata delle nuove sugli uragani, ci sono grandi evidenze sulle ondate di calore, un po' meno sulle precipitazioni estreme. Però stiamo vedendo questi eventi sempre più frequentemente. Un'altra concausa della situazione meteorologica, ritengo, da approfondire però, la autobiografia, che c'è questo problema del rallentamento del jet stream dovuto al ritiro dei ghiacci artici marini, non sto a spiegare il perché, ma che causa una maggiore ondulazione, quindi il jet stream più lento, quindi i sistemi più stazionari, lunghi periodi di siccità, lunghe ondate di calore, ma anche improvvise eruzioni di aria fredda. Come nel dicembre 2009, quando appunto ci furono anche titoli di alcuni giornali che dicevano guardate questa fotografia, donde sta il cambio climatico, donde sta il calientamento global? E ho scritto dopo due giorni, ne riparleremo, e dopo due giorni tutta la neve si fonde e i fiumi vanno in piena. Si era rischiato quello che è successo quest'anno, proprio, pioggia su neve. Quindi, parola chiave, resilienza, queste sono le ultime alluvioni in Emilia, la mappa viene proprio da Arpa Emilia-Romagna ed è l'Emilia-Worming, il calientamento della regione Emilia-Romagna, e queste sono le quattro alluvioni degli ultimi mesi. Notare nella figura piccola, quella di Piacenza, forse dopo ce l'ho anche in grande, non sono sicuro, che si vede la strada e le fabbriche nuove che sono fondovalle vicino al fiume, la strada storica e le case storiche che sono là in alto, chissà perché, magari ce lo dirà dopo il professor Landini e poi nelle conclusioni. Eccola qua, qua la vedete molto bene, qui c'è il fiume, lì ci sono le strade, lì purtroppo ci sono state due vittime, viaggiavano di notte per necessità e se si vede il video non avevano possibilità di scampo, uno era un anziano che portava una persona in ospedale, l'altro era una guardia maggiurata, sono arrabbiate lì, era buio e non è che hanno cercato di attraversare le zone inondate, come giustamente si dice nel fare prevenzione del rischio, ma andavano, viaggiavano, di buio, improvvisamente invece della strada c'era il fiume. Quindi, per dare la parola al professor Landini, questa è una frase del sindaco dell'Alcada del Campogalliano del 1973, se si vuole veramente la ripresa economica, determinare nuove possibilità di occupazione, garanzia per l'aumento della produttività e del reddito nazionale e del benessere della popolazione, le scelte da farsi in primo luogo sono quelle della difesa da così vaste ondate di piena dei fiumi e diceva e non la televisione a colori, perché c'era discussione per la televisione ai colori o le autostrade, questa è una fase di allora, con questo la parola al professor Landini che ci parlerà meglio degli aspetti idraulici dell'Unione di Modena. Grazie. 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 Grazie.